Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italiano Le attenzioni di Jessica verso i suoi coinquilini non vengono ricambiate allo stesso modo La principessa si lamenta con Miriana esprimendo tutto il suo dispiacere Jessica si è sempre dimostrata molto attenta a tutti i bisogni dei suoi compagni di avventura ma non sempre ha ricevuto lo stesso trattamento Proprio oggi, a pranzo, nessuno si è preoccupato di preparare da mangiare anche per lei e per questo la principessa è stata costretta a pranzare da sola quando tutti avevano ormai già terminato Punto la cosa le ha dato molto fastidio e per questo, nel pomeriggio, ne parla con Miriana manifestando tutto il suo sconforto, io penso sempre a tutti, do attenzione che non ricevo mai indietro Non essere presa in considerazione dalle persone a cui lei dà sempre attenzioni fa molto riflettere Jessica che dice, ci sono dei momenti in cui me accorgo di essere sola Punto Miriana cerca di confortarla facendole capire che forse, se questo è successo, non è a causa della malafede dei suoi coinquilini Secondo lei il fatto che Jessica abbia sempre pensato autonomamente a se stessa ha fatto sì che gli altri si abituassero a non preoccuparsi per lei, ti do per scontata Punto la showgirl le consiglia, quindi, di imparare a chiedere aiuto così da evitare che la cosa si ripeta ma la principessa non sembra intenzionata a farlo e vorrebbe che anche gli altri si prendessero cura di lei di loro spontanea volontà Punto grazie per aver guardato l'intero video.Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo ai prossimi video.Addio